Ciao a tutti, sono la dottoressa Maria Teresa Parisi, consulente immobiliare della REMAX Change di Brugherio. Ci trovate via Vittorio Veneto 50 e quest'oggi sono qua proprio per presentarvi questa realtà che nasce dall'idea di due soci, io e Simone, che poi vi presenterò, che hanno deciso di aprire questa realtà in Brugherio dove REMAX è già conoscente conosciuta, conosciutissima ovviamente da oltre 50 anni a livello internazionale, ma anche nazionale, esiste in Italia da circa 26 anni. Quello che REMAX porta è questo valore aggiunto di non essere la classica agenzia tradizionale, ma bensì un centro di mediazione immobiliare dove domande e offerte si incontrano e dove i consulenti possono così al meglio seguire i propri clienti. Quello che noi vogliamo presentarvi è un pochino questa nostra forma mentis, diciamo, dove già il titolo della nostra agenzia con di Change è un pochino così la rappresentazione di quello che noi vogliamo così far sì che si possa realizzare, ovvero questo cambiamento che ha portato un po' anche così, anche il cambiamento delle nostre stesse vite mie e del mio socio e che vorremmo insomma un pochino trasferirvi, nel senso che nella vita chiaramente ci si trova spesso, quasi sempre, anno dopo anno a essere persone diverse, a cambiare, a volere cose sempre differenti. Ed è qui che nasce appunto l'idea di chiamare l'agenzia RIMAX Change. Il cambiamento perché sia per chi volesse vendere o acquistare il proprio immobile, ma anche il cambiamento per chi volesse proprio cambiare, perché no, il proprio lavoro. Oppure, se siete già magari colleghi appartenenti anche ad altre agenzie competitor, avvicinarsi e scoprire un po' il meraviglioso mondo RIMAX. Quindi vi invito a questo punto a vederci a conoscere, ci trovate, ripeto, il mio Vittorio Nelto 50 a Bugherio e perché no a scoprire, ad approfondire un po' di più la nostra meravigliosa realtà.